salire con la macchina guardate che roba c'è anche un pisto che cammina trovato un karim andiamo su piedi tanto sono 500 metri provato a salire ma arrivo fino a un certo punto e poi non ce l'abbiamo fatta comunque un paesaggio meraviglioso piace da matti importante aver preso le chiavi bene sono il 2 di aprile sembra vero invece sono quello che doveva fare due mesi fa mesi fa lo fa adesso credibile vieni Ale andiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti